Allora, buongiorno a tutti, io sono Marika Lopa, sono scrittrice, copywriter e web project manager. Ho già pubblicato un libro che si chiama Il tema di Anna, attualmente sto per pubblicarne un altro, un romanzo fantasy young adult che si chiama La stella del giudizio. Commercialmente appunto sono una copywriter e web project manager, nel senso che mi occupo di tutto quello che riguarda il web marketing, tutto quello che riguarda l'aiutare gli imprenditori, le piccole e medie imprese, i liberi professionisti ad avere successo nella loro impresa e a valorizzare il loro prodotto. Allora, sostanzialmente questo intervento perché si fa? Perché solitamente i liberi professionisti e le imprese hanno, chiamiamolo un grosso problema, un grosso quesito, fra virgolette, nel senso che non sanno come semplificare la loro attività di marketing. Oggi come oggi sul web ci sono tantissime informazioni, ogni volta che qualcuno, un libero professionista ha bisogno di avere un'informazione, sapere qualcosa riguardo all'attività o su come gestirsi sul web soprattutto, trova su internet un sacco di informazioni. Cosa succede? Che non sa quale dare la priorità. Siamo veramente inondati di informazioni perché questa è proprio l'epoca dell'informazione. Quando tutto ha una priorità, fra virgolette, e non si sa a che cosa dare effettivamente la priorità, succede che non si dà la priorità a nulla. Come mi ha detto anche un mio grande amico formatore, quando nulla ha la priorità, praticamente si naviga in un mare di informazioni che non servono a niente. Questo è molto deleterio per il marketing e per far risaltare il proprio prodotto. Quindi sostanzialmente che cosa bisogna fare? Bisogna semplificare e questa è una cosa a cui non si dà solitamente la necessaria importanza perché semplificare, proprio come diceva Albert Einstein, è fondamentale. A questo proposito vorrei sottolineare la legge di Pareto che sottolinea come sia importante semplificare e che sostanzialmente, detto proprio in parole povere, è detta anche la legge 80-20 che ci dice che dell'80% delle cose che facciamo e che impariamo solo il 20% di queste è realmente importante o efficace per raggiungere i risultati. Questo non significa che non bisogna provare a fare esperienza perché l'esperienza ci aiuta però certo che se ci si focalizza subito sulle cose veramente necessarie che sono quel 20% dell'80% si risparmia un sacco di tempo ovviamente. Allora, di solito diciamo che i liberi professionisti e le imprese si dividono in tre categorie e a seconda di quale categoria voi state voi avrete dei risultati o meno. queste tre categorie, proprio semplificando, proprio perché questa è la semplificazione io cerco di essere semplice perché cerco di semplificare queste tre categorie sono la categoria, chiamiamolo fra virgolette, dei pigri chiamiamoli come se fossero un po' bambini, la categoria delle persone che non sono non sono pigre ma che quindi sono, adesso non so come dire, sono persone che vogliono arrivare e la terza categoria sono le persone che vogliono arrivare ma che vogliono anche oltre a raggiungere l'obiettivo vogliono arrivare primi. Allora, i pigri, la prima categoria qual è? è una categoria di persone che non sono realmente pigre ma che pensano che si debba lavorare solo per guadagnarsi da vivere. La seconda categoria è una categoria di persone che oltre a guadagnare per vivere vogliono guadagnare per arrivare a determinati obiettivi. La terza categoria è fatta di imprenditori che vogliono guadagnarsi da vivere, arrivare a determinati obiettivi ed arrivare anche primi. Allora, sostanzialmente i pigri commettono un errore, quelli che vogliono solo guadagnarsi da vivere perché oggi come oggi nel marketing non è possibile fare questo ragionamento perché per una legge quasi darwiniana si è destinati a non spiccare e non riuscire neanche ad arrivare a volte purtroppo al guadagnarsi da vivere. Bisogna avere una mentalità che va un po' oltre. Per questo c'è una regola di base che molti ignorano, molti imprenditori ignorano. Questa regola che si deve applicare soprattutto sui siti web e sul web marketing è che bisogna dare risalto al cavallo di battaglia sostanzialmente dell'azienda. Quindi non solo ad una lista di cose, ma ad un vero e proprio cavallo di battaglia. nel senso che per ogni categoria in cui noi lavoriamo dobbiamo individuare ciò che non è ancora stato toccato dal... mi viene da dire toccato nel senso che non è stato toccato dai competitors, nel senso che nella mente dei consumatori non è già al primo o al secondo posto. Se ad esempio decidiamo che noi vogliamo diventare primi nell'ambito delle bevande gassate alla caffeina, stiamo già partendo male perché nella mente del consumatore ormai ci sono già la Coca Cola e la Pepsi. la nostra grande fetta di mercato è già presa e per quanto noi possiamo essere bravi e capaci la mente del consumatore che come mi dice... mi ha insegnato... mio insegnante di comunicazione e di privacy è più emozionale che razionale non avrà lo spazio per inserire anche il nostro prodotto. Possiamo però ad esempio pensare ad una sottocategoria di quel prodotto. Quindi, visto che il colosso nella mente del consumatore è intoccabile, pensiamo ad una sottocategoria, come ad esempio hanno fatto delle aziende che hanno creato ad esempio la Red Bull. La Red Bull è la sottocategoria della Coca Cola sostanzialmente perché è una bibita che ci dà forza, ci dà energia, come fa la Coca Cola, ma nella mente del consumatore è posizionata come bibita che dà forza ed energia, quindi appartiene ad un altro settore della mente. Ecco perché marketing e psicologia sono strettamente collegati. Sostanzialmente quindi bisogna individuare il cavallo di battaglia e brandizzarlo, quindi trovare uno slogan poi da apportare al sito. Allora il sito deve essere sostanzialmente molto semplice. tantissimi siti sono pieni tipo di banner pubblicitari che risolgono l'attenzione dal succo del messaggio e che fanno cliccare subito sulla chiusura. Soprattutto il sito deve focalizzarsi immediatamente sul messaggio principale perché il navigatore quando va sul sito è come un bambino, cioè è in modalità bambino. Quindi anche questo si collega molto alla psicologia umana. Noi abbiamo, a seconda delle situazioni, siamo adulti, genitori, bambini, adesso senza addentrarci anche perché io non sono psicologa ma sono web marketer quindi non voglio addentrarmi in un settore che non è completamente mio. Però ad ogni modo il navigatore è un bambino sostanzialmente anche quando va alla ricerca di informazioni utili alla sua attività. Quindi non una lista di prodotti che sono in vendita perché il sito non è solo una vetrina ma deve essere strategico e quindi il brand con il prodotto di punta. Io non so se ho superato adesso i minuti. Allora, dunque, sostanzialmente queste sono le regole base. Applicare anche solo una di queste di queste regole fondamentali già apporta dei grandissimi risultati. Come vedete, per esempio, quando voi potete imparare moltissimo dalle strategie di Facebook perché Facebook è geniale sostanzialmente. E' veramente anche quando ci chiede di sponsorizzare gli eventi voi fate caso molto a quello che vi chiede perché Facebook ha tutto un team dietro che sa esattamente dove dirigere le informazioni e su cosa bisogna focalizzarsi per ottenere determinati risultati. Io vi dico, il romanzo fantasy, che si chiama La Stella del Giudizio, non è ancora pubblicato però nonostante questo io ho già iniziato a sponsorizzarlo perché so quanto sia importante avere già un seguito dei fans. utilizzando gli annunci sponsorizzati di Facebook sono arrivata a quasi... ho superato i 500 like. Quindi ho già un seguito e ovviamente diciamo che questo fa molto la differenza. Per quanto riguarda tutte queste regole generali sappiate che voi potete applicarle a qualsiasi tipo di prodotto cioè qualsiasi cosa voi vendiate, che vendiate, non so, cerchioni per la macchina, che vendiate un servizio proposto da voi stessi, che voi siate formatori queste sono veramente leggi che potete applicare a qualunque a qualunque settore. L'importante è il focus. Se voi pensate per esempio alla mente umana, la mente umana ad esempio ha una capacità di concentrarsi su determinate cose ristretta nel senso che per quanto possiamo essere intelligenti dopo un tot di tempo cala l'attenzione. Questo perché non è un caso, perché la natura non è stupida. Se l'uomo è così c'è un motivo, perché la natura tende a semplificare. Il cervello stesso, che è la più meravigliosa macchina, tende a semplificare. Quindi quando non sapete, non riuscite a fare una cosa ricordatevi che sempre è un campanello d'allarme, come una ferita quando avete male, è un campanello d'allarme che vi sta dicendo che vi state focalizzando sulla cosa sbagliata. Bisogna cambiare un attimo direzione. Faccio ancora un esempio su questo. Quando voi accendete la luce, ovviamente si accende la lampadina. Adesso noi, storicamente, sappiamo che l'inventore della lampadina è Edison. Edison ha fatto, probabilmente lo sapete, ha fatto un sacco di tentativi, ha avuto un sacco di frustrazioni, perché comunque in questi tentativi un sacco di volte gli è scoppiata la lampadina. C'erano i vicini di casa che lo prendevano in giro. Eh, ma come sei ancora lì che cerchi di inventare la lampadina? Lui ha detto, no, io non ho avuto dei fallimenti. Io ho trovato un sacco di modi per come non si inventa la lampadina, quindi quelli li posso accantonare. Ok, lui ha dovuto affrontare il 60 per cento di quell'80 per cento che non va bene, sostanzialmente. E poi ha trovato il suo 20 per cento. L'importante, appunto, non è frequentare... Sì, frequentare i corsi ovviamente bisogna farlo, però bisogna stare attenti su cosa ci si focalizza. Bisogna stare attenti ai risultati. E... e fine. Va bene, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qua. Vi segnalo che c'è la mia pagina Facebook, Maricalopa Copywriting, il mio sito internet maricalopa.com e poi anche la pagina del libro, la stella del giudizio, il fantasy romance. Quindi se avete anche qualche nipote, ragazzino a cui piace leggere, che vuole interfacciarsi al mondo dei libri, visto che è sempre un bene leggere, sappiate che potete, insomma, segnalare di mettere il suo like a questo romanzo. Vi invito inoltre a leggere il mio sito, a navigare sul mio sito, visto che c'è un'interessante proposta di marketing e di commercio, abbastanza, fra virgolette, mi sento di dire, non rivoluzionario, ma applicabile a tutti i settori del commercio. Grazie. Grazie.